Non è stata solo una provocazione, ma una proposta concreta quella del sindaco di Cosenza Mario Chiuto relativa all'organizzazione dell'Olimpia del 2024 a Sibari, ma più in generale nel mezzogiorno. Il mio auspicio, ha detto Chiuto, è che Roma possa essere la città deputata a organizzare le Olimpia del 2024. Tifiamo tutti per la capitale perché ci sarebbero ricadute importanti per l'intero paese, ma se si dovesse rinunciare invito i sindaci di Napoli, Bari e Palermo a un tavolo istituzionale per discutere dell'idea riguardo le Olimpiadi della Magna Grecia. Lo stesso Chiuto ha fatto riferimento alle parole di Luigi De Magistris, che si è già espresso a favore della candidatura di Napoli nel 2028, al fatto che il Comitato Olimpico Internazionale non ha più una rigidità assoluta nella rotazione continentale e che la FIFA sta pensando di organizzare i mondiali di calcio in più paesi per proporre eventualmente l'organizzazione dei giochi del 2028, con Sibari al centro del progetto coinvolgendo, oltre a Sud Italia, anche la macro area Grecia, Cipro e Macedonia.